Una caldaia alimentata dalle biomasse locali, cippato di legna nel caso specifico, per scaldare i 3.000 metri cubi dell'edificio del municipio e del vicino ambulatorio medico del paese. Un esempio di come una comunità alpina può dare il suo contributo per la riduzione nell'uso di idrocarburi come il gasolio, ma anche per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione di una risorsa che nelle vallate non manca di certo. Tutto questo a Lemie, dove la caldaia, cippato di legna da 80 kilowatt, è stata inaugurata ufficialmente mercoledì 8 novembre. L'impianto è costato 180.000 euro, di cui 106.000, reperiti dal GAL, il gruppo di azione locale Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, grazie a risorse assegnate dalla regione e messe a disposizione dal Fondo Europeo per l'agricoltura e lo sviluppo locale. Il GAL ha curato sinora la progettazione e realizzazione di sette impianti per il riscaldamento di locali pubblici in altrettanti comuni. Nel 2024 partiranno gli studi di fattibilità per altri impianti. Dalle mie parte un esempio e molti altri comuni, piccoli soprattutto di montagna, ma non solo, lo dovranno imitare nei prossimi anni. Sì, devo dire che qui nelle Valli di Lanzo hanno dimostrato di saper interpretare bene la transizione ecologica, l'economia circolare e soprattutto hanno messo in campo la grandissima determinazione che sanno mettere in campo i sindaci quando si trovano in situazioni di particolare difficoltà. In questo caso il sindaco ci ha raccontato quanto è stato complicato portare a termine questo progetto, i prezzi che si sono alzati, varie difficoltà tecniche. Nonostante questo l'ha portato a casa. Secondo me questa cosa qua è una di quelle cose che tutti noi sindaci dobbiamo prendere ad esempio. Sindaco, una bella soddisfazione per Lemie, tanto lavoro perché sono tutti progetti che nascono con qualche difficoltà per trovare i finanziamenti, ma l'occasione per soprattutto utilizzare una risorsa locale, il bosco, i boschi di Lemie. Assolutamente sì. Il progetto nasce un po' di anni fa grazie all'iniziativa del GAL Valle di Lanzo e l'abbiamo sposato in piena proprio perché tende a valorizzare una delle risorse presenti sul territorio. L'obiettivo primario dell'amministrazione, oltre al fatto di poter rinnovare impianti obsoleti e mettere sul territorio le risorse che prima andavano verso il petrolio, verso altri sistemi sicuramente più inquinanti, quindi abbiamo un duplice effetto sia da un punto di vista economico di ricaduto sul territorio che di riduzione dell'inquinamento ambientale. Grazie a tutti.